Hi guys, ciao ragazzi, vola Gringo e sempre qui alla Ovo Beach, per non dire Ovo Soto, scusami, sto proprio abbronzato male, e sempre con campiones del Boca Junior, un grande futuro di calciatore, grande campione, ecco qui Lucas, io sono del River Play, io sono del River Play, per favore, River, vabbè Lucas, ho avuto dei contatti dall'Italia, mi hanno detto che il Napoli ti vuole acquistare, ti piacerebbe venire a giocare in Serie A? No, non capisci dove mi parla, ma io l'ho detto anche. Mi amico, italiano, mi chiamò e mi disse guarda che c'è sta Lucas che è pronto da River Play per venire a Napoli, tu ti piacerebbe venire a Napoli a aiutar, con la pelota? Ecco, noi acquisto il Napoli 2016-2017, al posto di Guain, Lucas Martin, Luca Martini, Luca Martini, la buona. E' uguale, un saluto da Punte dell'Est, Ovo Beach, e come si dice in Argentina, ti saluta? Hola, ciao, un beso.